Musica Venerdì 14 settembre, buongiorno Friuli dalla redazione di Udinews TV. La nostra giornata incomincia come di sconsueto con questa prima ora di diretta assieme per andare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali dove troveremo ancora le tensioni tra Italia ed Europa e poi l'anniversario, un mese esatto, dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, l'occasione per fare il punto su quanto è stato fatto e su quanto è ancora da fare. Poi a livello locale torneremo su diversi fatti di cronaca, la questione delle aperture festive e molto altro ancora. Prima di andare però sui quotidiani il consueto sguardo alla meteo con le previsioni per la giornata odierna grazie al sito dell'Osmer Arpa FWG. Sui monti cielo variabile con probabili locali rovesci o temporali dal pomeriggio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti più frequenti verso sera e nella notte quando sarà possibile qualche rovescio o temporale. Per domani giornata di sabato invece sulla nostra regione si prevede di notte di prima mattina qualche rovescio temporale specie su costa e mare in attenuazione nel corso della mattinata. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso ovunque. Sui monti di pomeriggio ancora qualche ulteriore isolato rovescio temporale possibile anche sulle zone orientali. Andiamo anche a dare uno sguardo a alcune webcam grazie all'ausilio della regia. Questa per esempio ci arriva dall'alto piano del Montasio con appunto il sole che inizia a sorgere dietro le montagne. Ancora andiamo a vedere un'altra immagine che arriva da Grado con lo sfondo del Mar Adriatico del Golfo di Trieste. Anche in questo caso nubi, leggere e il cielo che inizia ad aprirsi. Dal meteo, dalle webcam, dallo sguardo sui cieli della nostra regione ci spostiamo ora anche a dare un'occhiata all'autostrada. Inizia una fine settimana che potrebbe portare ancora a nuovi rallentamenti a code per forse quello che sarà l'ultimo cambio di controesodo di queste ferie estive. Al momento la situazione è tranquilla come potete vedere sul tratto della A4 tra Trieste e Portogruaro. Ci sono i consueti restringimenti per i lavori della terza corsia dallo snodo di Palmanova sino a Portogruaro e nessun problema nemmeno sulla A23, la Palmanova-Udine-Tarvisio. Andiamo dunque sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. E poi partiamo dal Corriere della Sera con l'apertura dedicata proprio allo scontro tra Europa ed Italia. Moscovi sì, vedo dei piccoli Mussolini. Salvini e Di Maio, frasi inaccettabili. Draghi, il presidente della BCE, invita i ministri alla cautela. Le parole hanno creato danni. E poi ancora l'ex leader PD, l'eterno ritorno di Renzi senza autocritica. Un ritorno sul palcoscenico sfoderando il repertorio di battute e comportamenti che avevano stregato gli italiani, pronti con una velocità sorprendente a disamorarsene. La firma di questo fondo è di Pierluigi Battista. Dall'Italia è arrivata ieri anche la notizia delle dimissioni di Nava dalla Consob, non gradito alla politica, una decisione, quella delle dimissioni del 52enne, accolta con frasi di vittorie da parte di Lega e 5 Stelle. A centro pagina si parla ancora di esteri e di un libro in particolare, quello di Woodward, l'anti-Trump che conquista l'America. Si parla del 75enne, autore del libro anti-Trump, storico reporter e autore con Bernstein dello scoop sul Watergate. 750.000 copie vendute in 24 ore e arriva anche in Italia al libro con Solferino. Poi dicevamo appunto un mese dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, è lito sul commissario, via il decreto il ponte resta un rebus. Dalla prima del Corriere ci spostiamo su Repubblica che sceglie anche in questo caso di proporre un'immagine davvero impressionante di quel che rimane del ponte Morandi. Un mese dopo la politica non decide, uno speciale di otto pagine, l'esecutivo diviso vara un decreto vuoto. A centro pagine invece le parole di Draghi, danni dalle parole del governo, Consob, Nava, Lascia, il Movimento 5 Stelle esulta, mi dimetto i partiti non ci fanno lavorare, nel frattempo Moscovi sì, l'Italia è il problema dell'Europa. Gli altri spunti dalla prima di Repubblica, nuove tensioni con Malta, migranti avvistati sette gommoni, Salvini non sbarcheranno e gela Berlino sull'accordo. E poi l'addio a Ceronetti, il burattinaio della letteratura, poeta, scrittore e funambolo. Da Repubblica andiamo sul quotidiano Libero, che sceglie un'apertura diversa dalle altre, rubano soldi ai pensionati per darli ai cari fannulloni. Di Maio risolve le crisi aziendali della TMAILVA con i quattrini dell'ente di Previdenza e adesso per mantenere le promesse elettorali bussa ancora da Boeri. Poi chi pagherà le rendite ai nonni, reddito di cittadinanza a carico dell'Inps. Questa è l'apertura di Libero. E poi c'è un fondo del direttore Vittorio Feltri dedicato a David Parenzo, l'unico ebreo del tutto fesso, dice che siamo razzisti. Feltri si scaglia contro il co-conduttore della Zanzara, soliti durante le trasmissioni radiofoniche, gli scontri tra i due e continuano anche sulla stampa. Centropagina invece l'America che esalta Salvini. L'Europa attacca l'Italia ma per il Time Matteo farà male all'Unione. The new face of Europe, questo il titolo del settimanale americano Times. Andiamo ora da Libero sul giornale dove ritroviamo invece le frasi contese tra Italia ed Europa. resuscitano il duce, l'Europa ci sfida, Italia in mano a piccoli mussolini, pure Draghi si sfila da Roma, parole e danni. A centropagina c'è Oriana Fallaci, protagonisti del Novecento, i nemici della Fallaci, libro Verità su Oriana. firma di Alessandro Gnocchi. E poi ancora Genova, lite sul ponte, passa solo un decretino a un mese dalla tragedia. Il caso di Ciotti, ecco le prove che incastrano i maltesi, la questione legata all'emergenza immigrazione. Dal giornale ci trasferiamo ora sul fatto quotidiano che torna ad occuparsi di Berlusconi. La pacchia è finita perché, a parlare Vito Crimi, sottosegretario dell'editoria, che annuncia al fatto le mosse su TV e giornali. Tetti agli spot in televisione, più pubblicità alla carta, ma basta soldi pubblici. Queste le intenzioni del sottosegretario di governo. Di taglio alto invece due richiami alle dimissioni di Nava, l'incompatibile lascia e fa la vittima, era in distacco dall'Unione, non poteva restare lì. E poi ancora i 6 della Farus IPM, qui i soldi sospetti, le dichiarazioni del trader della società lussemburghese legata all'inchiesta sui fondi della Lega di Salvini. Andiamo ora su Il Manifesto con una foto che ritrae in apertura Mario Draghi con i conti in sospeso. Basta chiacchiere, fate i compiti da Francoforte e da Bruxelles, torna il ritornello rigorista. Avete fatto danni con le parole, ora i fatti, chiede Draghi, mentre Moscovici aspetta i conti in ordine e vede tanti piccoli Mussolini. I gialloverdi sulla manovra litigano. Conte a Genova ancora a mani vuote, un mese dalla tragedia della ponte Morandi. E poi di taglio basso, due spilli, lo scambio, Lega Forza Italia in pista ritorna a FOA per quanto riguarda la RAI. Sul lavoro invece, cassa integrazione per cessazione giallo sul decreto. Continuiamo la nostra carrellata e ci spostiamo su la verità. L'apertura, la Francia ci dichiara guerra, il grande scontro in Europa. Moscovici, socialista fallito, insulta l'Italia e ci fa la morale sul fascismo e sui conti. Proprio mentre Parigi sfora il 3% e pensa al reddito di cittadinanza. E' solo l'antipasto, il caso Orban, mostra che a Bruxelles la democrazia sta diventando un guaio. Draghi critica al governo, parole dannose. 5 Stelle e Carroccio litigano sulle risorse in manovra. A centropagina, i migranti della 18 vogliono querellare Salvini per sequestro. E poi ancora un condannato tra gli esperti di Toninelli. Gaetano Intrieri agita al Ministero delle Infrastrutture. Genova via libera al decreto, ma non al commissario. Chiudiamo anche con la verità e andiamo sui temi economici proposti dal Sole 24 Ore. BCE e Unione ora sui conti dell'Italia. Servono i fatti verso la manovra. Draghi, danni dalle parole del governo sui vincoli. Aspettiamo la manovra. Moscovici, Roma è un problema della zona euro. Il bilancio sia credibile. Il governo nel frattempo lavora i tagli, ma la correzione di spesa si ferma a 4-5 miliardi. E poi a centropagina la foto che ripropone la questione dell'Ilva di Taranto. Il SIA Mittal vince con il 94%. Plebiscito degli operai dello stabilimento di Taranto all'accordo. Mittal sarà da domani il nuovo proprietario. Di taglio alto invece le dimissioni di Nava dalla Consob dopo 5 mesi. Ci fermiamo qui con la prima parte dedicata ai quotidiani nazionali. Ora ci spostiamo su quelli locali. Dicevamo che per esempio il messaggero Veneto sceglie di ritornare sulla questione delle aperture nei giorni festivi. Preannunciando un possibile scontro nella maggioranza che guida la giunta regionale. Prime crepe in maggioranza sullo stop allo shopping festivo. Progetto FVG, il partito dell'assessore al commercio Bini, è contro le restrizioni appoggiate da Lega e Forza Italia. Bardelli dice così si favoriscono gli acquisti online a rischio 50 mila posti di lavoro più colpiti i giovani. Di spalla abbiamo il richiamo alla grande inaugurazione di Friuli Doc avvenuta ieri a Udine con il passaggio, il sorvolo delle frecce tricolori. Ma rimangono alcune polemiche sullo show di Anna Oxa. A centro pagina invece l'inchiesta sulla maxi truffa con il promotore finanziario Gaiatto di Porto Gruaro che rimane in lacrime, resta in silenzio però nel primo interrogatorio. La moglie nega tutto. Si parla della truffa da 72 milioni di euro in cui nella rete sono caduti 3 mila risparmiatori. Ieri si è presentata all'interrogatorio anche Naima Romani, la moglie, che appunto ha negato tutto. E ancora alcuni richiami di cronaca dal messaggero ospedale, nuovo concorso per assumere centinaia di infermieri. Sul settore tessile invece 40 donne a un passo da licenziamento, l'SS dei sindacati alla confezione Daniela di Pantianico. Ancora truffe, devo vedere le bollette ma poi arrivano altre offerte, mentre dal Cile arriva la notizia di un vescovo originario nato in Friuli, finito in un'indagine sulla pedofilia. Andiamo all'interno ad approfondire questi temi che abbiamo trovato sull'apertura del messaggero, partendo proprio dalle aperture festive. La maggioranza è divisa perché il progetto FWG si smarca da Lega e Forza Italia. Saro e Dibert, abbassare le serande è un danno economico e sociale. Bordin risponde, cruciale, la tutela delle famiglie e delle piccole attività. Per la civica che fa capo all'assessore Bini, i centri commerciali sono le nuove piazze. C'è anche la parola dell'ex assessore regionale Bolzonello che aveva firmato proprio la legge sulle aperture e dice «Solo dilettanti, no a paragoni con la mia di legge». Il capogruppo ripercorre i passi della riforma del 2016 e poi bocciata dalla consulta. Il provvedimento teneva conto di ogni esigenza, esercizi chiusi in alcune date simbolo come Natale e Pasqua, 1 maggio e 2 giugno. C'è anche un'ampia intervista a Bardelli, il patron della Città Fiera, che dice assista alle vendite online, quello della chiusura nei giorni festivi. A rischio in Italia 50 mila posti. Traguarderemo l'anno con 9 milioni di visitatori, dei quali uno e mezzo arrivano durante le domeniche. Conta 250 negozi, il Città Fiera e 1.700 dipendenti. Cosa dice ancora Bardelli in questa intervista? Ok a qualche stop, anche fino a 10, ma servono equilibrio e regole uguali per tutti. Andiamo ancora avanti con le pagine interne del messaggero. Abbiamo visto di questo richiamo dal Cile, che vede indagato un vescovo friulano, era originario di Campomole di Teor, è finito tra gli indagati di un'inchiesta avviata dalla procura cilena per fare luce su alcuni casi di presunti abusi sessuali su minori. Ancora dalle pagine interne del messaggero, torniamo sulla maxitruffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, che vede protagonista il promotore finanziario di Portogruaro, Fabio Gaiatto. L'uomo che ha truffato 3.000 clienti in lacrime, ma non parla dal giudice. L'avvocato Ponti, difensore dell'uomo, lo descrive provato dopo due notti in cella, fiducioso di poter chiarire tutto. Sarebbe nel suo interesse restituire gli investimenti, ma non ha quei soldi. Ci cascò pure l'esperto di finanza, poi convinse molti a denunciare. Ci sono ancora ulteriori sviluppi dall'indagine. Ha parlato solo il consulente Vicentino, che ha lavorato per la Venice la difesa di una procacciatrice. Era solo un dipendente, non sapeva. Andiamo ancora a vedere altri risvolti da parte dei indagati. C'è anche la compagna di Gaiatto, che si è presentata ieri all'interrogatorio in tribunale, visibilmente provata al suo legale. Depositerà oggi l'istanza al riesame per ottenere la remissione in libertà. Fiori e telegrammi per Naima dimostrerà la sua innocenza. Impegnata con gli avvocati Luca Ponti e Maurizio Miculan, l'ignanese, un passato da immobiliare, la donna ha respinto le accuse contestate. E poi ci sono ancora le storie dei truffati raccolte dal quotidiano, le promozioni del 5% e le app con il proprio conto. Fra i clienti c'è stato anche chi voleva chiedere un prestito usando come garanzia importi contenuti nella app per il passaparola. Il trader inseriva i dati nel software gestito da due suoi collaboratori. Andiamo ancora avanti dalle pagine del Messaggero Veneto. Adesso c'è la questione del garante dei diritti che è stato trattato in Commissione e in Consiglio regionale. Da tre esponenti a uno scontro tra Forza Italia e IDEM, Camber propone il taglio ma anche di allargare le funzioni. Jacop risponde non si modifica così un istituto di difesa civica. E poi ancora l'operazione e l'esercitazione della protezione civile dei vigili del fuoco a Venzone, terremoto, tempi da record per la mappatura dei danni. Ieri c'è stata la giornata con CERMEX 2018, i test dei vigili dell'Università della protezione civile con gli esperti dell'UNESCO. Professor Grimaz, per capacità organizzative siamo un unicum internazionale. Vedete alcune delle immagini proprio dell'operazione avvenute nella vecchia frazione di Portis a Venzone, con le mappature degli edifici, i controlli sotto le tende dell'Università e i monitoraggi. Passiamo ai temi sanitari ora perché continua la questione delle carenze di personale tra gli ospedali. Mancano troppi infermieri, in arrivo un nuovo concorso per centinaia di assunzioni. Attesa giorni la pubblicazione della graduatoria per 466 posti, ma l'Egas è già all'opera per definire il prossimo bando che si aprirà entro dicembre. I temi economici con una nuova crisi occupazionale scoppiata ieri in una ditta del tessile di Mereto di Tomba, chiude, confezioni Daniela, rischio 40 dipendenti. L'allarme è lanciato dal sindacato che ha chiesto un incontro all'assessore Bini. La situazione è grave, le lavoratrici non possono accedere agli ammortizzatori sociali. Andiamo ora alle pagine dedicate a Udine Città che ci ripropongono alcuni degli scatti ieri della grande festa di Friuli d'Ocla, prima giornata che vi abbiamo raccontato con due dirette dalle 5 alle 6 e poi dalle 21 alle 22 con tanti contributi, le immagini, il passaggio delle frecce. Davvero una grande festa e davvero tanta tanta gente tra gli stand nella prima serata. Questo è il momento del taglio del nastro con le parole del governatore Fedriga che sono state dedicate alla grande pubblico presente. Le code per i prodotti tipici sono un orgoglio, altro che Starbucks, il presidente sul palco per il Via Friuli d'Ocla, la testimonia Klugman, il futuro è nel piccolo di qualità. Vedete le immagini con tutte le autorità presenti, testimonial e poi la folla assiepata sotto Piazza Libertà. Per quanto riguarda il programma di oggi andiamo a vedere che cosa ci sarà di particolare. Spazio anche alla solidarietà, tanti giochi per i più piccoli. In Piazza Libertà le 18 la tradizionale minestra di fagioli, ma partiranno anche gli show cooking in compagnia di Daniele Persegani e Franca Rizzi in Piazza San Giacomo e poi gli stand dell'Ersa in Via Mercato Vecchio. Gli appuntamenti con la ludoteca in Via del Sale, i giochi per tutti i gusti e tutte le età. Ancora una giornata con un programma ricchissimo. Non mancano però ancora le polemiche. Intanto vediamo i dati della prima giornata, subito pienone tra gli stand oltre i 150 e nelle piazze. Le immagini, alcuni scatti ancora con i brindisi dell'avvio e poi dicevamo delle polemiche su Anna Oxa che continuano sul concerto di domenica, lei si sfoga sui social, sarà comunque sul palco. Lo staff dice trattate normali condizioni per l'esibizione, il Comune ha cercato di frenare ancora il proseguo del dibattito, un palco adattato alle esigenze con giochi di luce. Andiamo ancora avanti con le pagine interne del messaggero, ci spostiamo su alcuni episodi di altre truffe che continuano a caratterizzare il territorio, ovvero la matriosca delle offerte porta a porta dai controlli di AMGA agli abbonamenti TV, gli agenti si rappresentano più aziende, arrivano come addetti del gaspo e si spingono a sottoscrivere altri contratti e naturalmente lasciano i clienti in difficoltà. Sulla questione delle multe invece per la ZTL c'è una sentenza a salvezza, la Cassazione infatti ha assolto un istituto di vigilanza che aveva 141 contravvenzioni, basta una sanzione se le violazioni sono ravvicinate e fatte in buona fede. Oggi il sindaco riceverà alcune associazioni dei consumatori per tornare a fare il punto della situazione. Lasciamo le pagine del messaggero e andiamo a dare un'occhiata al gazzettino con l'apertura nazionale autonomia e sgambetto 5 stelle, si parla delle tensioni nel governo e poi c'è l'episodio che arriva dalla destra tagliamento con le frasi razziste, niente Facebook per sei mesi, questo capitato appunto con un caso scoppiato in rete. Andiamo all'interno del gazzettino con le pagine del Friuli Venezia Giulia, l'apertura è dedicata alle frecce che incantano Udine, Fedriga, orgoglioso di avere migliaia in piazza per mangiare friulano e non per andare da Starbucks, il riferimento del governatore era quello alle code per quanto riguarda l'inaugurazione dei nuovi spazi in tante città. Sanità invece Riccardi accelera sul fascicolo elettronico, il vicepresidente lo presenteremo la prossima settimana. Sul fronte bando periferie tutti sperano nell'incontro Conte-Fedriga, oggi infatti arriverà a Trieste, il premier con l'argomento clou di queste giornate, i fondi ai capoluoghi di provincia per i progetti di recupero delle periferie. Donne in aula, Friuli Venezia Giulia, maglia nera, è ora di agire. E poi si anticipa i temi sportivi con l'Udinese e Samir fino al 2023, un'avventura quella del brasiliano fatta finora di tanti alti e bassi, ma la svolta positiva è arrivata con il ruolo di terzino, ne andremo a parlare ampliamente nella seconda parte di Buongiorno Friuli. Torniamo alle pagine dedicate a Friuli Doc con il decollo delle frecce e le parole delle autorità. Fontanini, spero che i frulani prendano forza, Fedriga saluta con mandi e plaude alle eccellenze. Ci sono anche alcuni consigli utili, va de mecum, rifiuti, sicurezza e parcheggi, ecco regole e orari. Sappiamo che sono tanti gli interventi in favore dei visitatori come le aperture fino ad ora tarda dei parcheggi in struttura e poi sistemi di parking ride per raggiungere il centro evitando code e congestione al traffico. Cuochi all'opera per il palato e anche per la solidarietà. Lo chef Persegani, protagonista di tre appuntamenti, ma ci sarà anche la minestra di fagioli distribuita in piazza. Ancora la questione Anna Oxa. Nessuna polemica, dice il comune. L'assessore Franz non ha mai minacciato di non esibirsi e non ha posto condizioni. Oxarte, la società della gente, riceviamo tanti messaggi solidali. Ci auguriamo di poter dire grazie a Udine. Andiamo ancora avanti con le pagine interne del Gazzettino. C'è la questione delle bombe d'acqua. La regione scende in campo. C'è stato un vertice a Lignano. Serve una soluzione definitiva al problema dopo gli ultimi casi che hanno visto tanti allagamenti nella località balneare friulana. Dicevamo poi della sanità con l'annuncio che arriveranno entro breve i fascicoli elettronici, ma c'è anche la storia clinica in un click. Il vicepresidente accelera sul fascicolo. Lo presenteremo a tutti la prossima settimana. Palmanova l'ha definito un progetto strategico. Vanno raccolte in formato digitale tutte le informazioni da parte dei pazienti. Andiamo anche dalle pagine del Gazzettino di Pordenone con ancora l'approfondimento sulla truffa legata al promoter finanziario Gaiatto che sceglie il silenzio. Solo un ciao alla moglie. Anche Neima Romani si è incontrata con lui tra un interrogatore di garanzie e l'altro. Uno sguardo e un saluto. Poi restano a distanza i due coniugi e Claudia Trevisan si sono avvalsi davanti al GIP della facoltà di non rispondere. Parla invece benvenuti, non centro. Sono il primo dei truffati. Nel settembre 2017 avrebbe iniziato a scrivere ai clienti esortandoli a non investire più un solo euro. Dal Gazzettino andiamo a approfondire invece l'apertura del piccolo che si concentra su una polemica scaturita in città, nella città di San Giusto. Manifesto censurato a Trieste, salta la mostra sulle leggi razziali, buferà sul comune dopo la richiesta di modifica alla locandina dell'evento già programmato. Un'iniziativa voluta dal liceo Petrarca, dall'università e dalla comunità ebraica. L'assessore si dice prudente. A centro pagina gli esperti dell'università di Trieste che studiano il ventre del Carso per curare gli allagamenti dei laghi, delle mucille. Questo è uno spunto che ci arriva proprio dal piccolo. E poi la politica regionale, forse Italia che boccia la Lega sui contributi all'accoglienza. E c'è anche un fatto di cronaca, uno schianto in moto a cortina, grave, un 66enne di Farra di Isonzo. Dalle pagine dedicate a Gorizia, dal piccolo, abbiamo questo spunto che parla della fiera che rivive con lo sport, ma il gioiello resta vuoto. Dopo Ex Pomego e Pollice Verde, la Kermes Gorizia in quattro lingue rimette in luce un contenitore poco utilizzato. Cade l'adeguamento ad hoc per un padiglione. Invece su Monfalcone l'apertura del dorso cittadino. In via Sant'Ambrogio solo birra calda per contrastare il dilagante abuso di alcol. Dalle 7.30 alle 20.30 vietate nei negozi le vendite di bibite refrigerate. Dopo quell'ora stop totale agli alcolici, esclusi i bar. Davvero una storia particolare che arriva da Monfalcone. Andiamo anche sul piccolo regionale per trovare alcuni spunti legati alla politica. Innanzitutto andiamo a fondo su questa polemica legata al manifesto censurato. A Trieste salta la mostra sulle leggi razziali del 1938. Bufferà sul comune dopo la richiesta di modifica alla locandina dell'evento. La giunta di piazza non ha assistito neanche alla proiezione del documentario legato agli allievi. A parlare c'è anche Moni Ovadia che propone una serie di confronti. Bulgari e danesi si opposero alle discriminazioni. Gli italiani no. La Germania poi è un paese che ha metabolizzato il regime nazista. La destra in questo paese non ha fatto i conti con il passato. Alcune pagine del piccolo che interessano invece gli esteri con il Parlamento sloveno che dice sì. Prende il via il nuovo governo Sarec. L'esecutivo di minoranza di centro-sinistra incassa la fiducia con 45 voti su 90. Il Premier dice che nessun nuovo Venezuela garantiremo la stabilità economica. Dopo le elezioni di giugno anche i nostri vicini di casa sono riusciti a formare un governo. Chiudiamo anche con il piccolo. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Tra poco ritorneremo assieme per parlare di sport e di udinese in vista della sfida di domenica contro il Torino. Tra poco. Grazie. 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 Ben ritrovati. Seconda parte di Buongiorno Friuli. Siamo pronti per andare sui quotidiani sportivi. Prima di tutto per parlare di udinese e dell'avvicinamento alla sfida, alla ripresa del campionato con la gara alla Dacia Arena contro il Torino di domenica alle 15. Siamo sul messaggero che si concentra su Scuffet, che prova a rinascere sotto il segno del toro la squadra che lo affossò. Il frulano in ballottaggio con Musso per difendere la porta dell'Udinese. Lo scorso anno Conigranata perse il posto da titolare dopo una serata nera. Torino nel suo destino nella primavera 2017 al vecchio Olimpico giocò lui e anche bene. C'è anche un escurso sulle date che hanno segnato un po' la carriera di Simone Scuffet, il ragazzo di Re Manzacco. Nato nel 1996, nel 2014 in Bologna Udinese 0-2. Guidolino lo ha fatto diventare titolare al posto di Berkic. Nel marzo 2014 Prandelli lo convoca per uno stage a Coverciano in Azzurro. Nel settembre 2015 l'esordio in B con il Como, in prestito con il Livorno. La gara finì con una sconfitta 2-1, primo K.O. di un anno deludente. Poi il 31 maggio 2017 titolare della nazionale di Ventura in Amichevole con Samarino finì 8-0. Il 20 settembre 2017 gioca a titolare con il Toro, commettendo due errori fatali nella sconfitta per 3-2. E da quella sera perde il posto da titolare. C'è anche la voce dei tifosi che dicono che dobbiamo lasciarlo sereno. Adesso sta maturando e ha bisogno di continuità. Questo dunque il profilo su Simone Scuffet. Torniamo anche un attimo su Friuli Doc perché ieri vi abbiamo proposti proprio live. Due dei giocatori bianconeri, Ignacio Pussetto e Marco D'Alessandro, erano presenti allo stand dell'ERSA in questa foto di gruppo con il sindaco Fontanini, gli assessori Bini e Zanni, il presidente Fedriga, l'assessore comunale Franza e i gagliardetti dell'Udinese presenti appunto alla giornata inaugurale con l'omaggio alle autorità presenti del gagliardetto con la zebretta. Torniamo alla preparazione, alla sfida di domenica contro il Torino. Sul fronte formazione Macis è rientrato soltanto ieri sera dopo l'appuntamento con la nazionale venezuelana che l'ha visto anche andare in gol contro la Colombia. Per questo appunto condizionato dal rientro tardivo potrebbe giocare Pussetto. Questo appunto è una delle ipotesi di mister Velasquez con l'occasione di farsi ammirare, magari di fare la differenza sulla linea dei trequartisti nel 4-1-4-1 provato anche ieri sul campo di allenamento. Quindi possibile ipotizzare una staffetta con Macis che potrebbe anche non essere l'unica dal momento che il tecnico spagnolo sembra orientato a confermare ancora Kevin Lasagna. Prima punta con l'accoppiata con Teodoczki rimandata a tutta conferma invece dell'impianto di gioco che ha fatto cadere la Samp il 26 agosto scorso. Partirà invece dalla panchina probabilmente Barak, comunque recuperato dopo il problema al quadricipite destro che lo ha escluso nelle ultime partite. Andiamo a vedere anche le designazioni in vista delle gare di questo turno, il quarto della Serie A. Si rivede il gatto nero Valeri ma il Torino non sta meglio. Questo è il quadro delle partite con gli arbitri, si inizia domani alle 15 con Inter Parma, poi alle 18 Napoli-Fiorentina, 20-30 Frosinone-Samp. Domenica lanci-match Roma-Chievo alle 12.30, poi appunto Udinese-Torino con arbitro Valeri. Ancora alle 15 Juve-Sassuolo, Genoa-Bologna, alle 18 in Polilazio, alle 20.30 Cagliari-Milan. Posticipo del lunedì Spala-Atalanta alle 20.30. Per quanto riguarda gli avversari, come sta il Torino, Mazzarri al lavoro su Belotti e Zaza, non avrà Ola Haina. Dipende totalmente dal mister. Noi a Mazzarri abbiamo dato una squadra importante, ma da me non avrà mai alcuna sollecitazione, ha dichiarato Urbano Cairo, il presidente dei Granata, che se ne sta alla larga dalle scelte tecniche. Possibile un 3-5-2 senza il giovane talento nigeriano Ola Haina, oltre a Linco e a Andal. Questo per quanto riguarda il punto sul Torino. Sulla Serie A, ieri è arrivato l'aggiornamento sul caso Plus Valenze del Chievo. La formazione di Verona se la cava con il meno 3, ma non si accontenta, farà ricorso. Il Tribunale federale infatti ha ridotto in modo considerevole le richieste del procuratore della FIGC Pecoraro, che puntava ad un pesante meno 15 al presidente Campedelli, invece tre mesi di inibizione. Vedremo poi se ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda il caso Chievo. Dalle pagine del messaggero a quelle del gazzettino dedicate ai bianconeri, continuiamo il nostro focus sulla formazione di Mr. Velasquez, che non cambia e recupera Mandragora, questo secondo il gazzettino. Con il Toro il tecnico si affiderà al 4-1-4-1, Pussetto in corsa per una maglia, Baracchi in panchina. Tra i pali il favorito resta Scuffè. Domenica alla Dacia Arena ci sarà anche Nestor Sensini. Non si cambia, scrive Guido Gomirato, a Julio Velasquez, la squadra che ha perso contro la Fiorentina non solo non è dispiaciuta, ma gli ha fornito le risposte che si attendeva sul piano tecnico e soprattutto su quello tattico. Sul quadro della sfida, è considerato che Mazzari è solito affidarsi a qualche 0-0-7 di comprovata fiducia finché le relazioni sull'avversario di turno, ieri c'è stato appunto nell'area internet ai tifosi possibili spie. Per quanto riguarda poi il modulo, dicevamo, del 4-1-4-1, canovaccio tattico che dovrebbe garantire equilibrio e compattezza. C'è un'altra nota positiva, oltre a quella di Econ, ieri baracca reduce dai postomi dello stiramento al quadricipite, è tornato a unirsi al gruppo, verrà convocato ma dovrà accomodarsi in panchina. Fronte portiere dunque, a difesa della porta, titolare si sono alternati Scuffette e Musso, favorito rimane sempre il friulano di Remanzaco che sta bene, ha ritrovato fiducia e gode anche della fiducia dei compagni. Musso dovrà attendere tempi migliori ma l'argentino non va messo in discussione. E poi, a proposito di Argentini, domenica alla Dacia Arena sarà presente l'ex bianconero Sensini che ha riempito pagine di gloria nella storia recente bianconera. 240 partite per lui, e poi è ricordato che è il goleador più vecchio della compagine, se non è andato a bersaglio nel 2006 contro il Cagliari quando aveva 39 anni e 2 mesi. Sulla sfida contro il Torino, dice la sua anche l'ex, il doppio ex, Paolino Poggi. Belotti e Zaza danno fastidio, dice. È difficile prevedere come sarà la partita ma sicuramente si tratta di due realtà interessanti. Entrambe hanno infatti cambiato il modulo di gioco, soprattutto l'udineseme del Torino, una squadra di buon livello. Poggi del buon attaccante, quale è stato, sottolinea l'ottimo assortimento del reparto offensivo Granata. Belotti e Zaza sono una delle coppie più interessanti del campionato, sarà piuttosto fastidiosa per gli avversari dal momento in cui entrambi saranno al top della forma e riusciranno ad esprimersi al meglio. Il collettivo, aggiunge ancora Paolino, è il punto forte perché potenzialmente può offrire qualcosa di nuovo rispetto a ciò che ha fatto negli ultimi anni. Ancora, dalle pagine sportive del Gazzettino dedicate ai bianconeri, l'avevamo visto prima nella dorso di cronaca, l'apertura con Samir, il brasiliano ritrovato, in bianconero fino al 2000 e 23 perché? Perché giocano da terzino, ha mostrato corsa, spinta e capacità a difendere e potrebbe essere giunto il momento del rinnovo di contratto che punta a far diventare al brasiliano un caposaldo della difesa di Velasquez. Una avventura, quella italiana, di Samir Caetano de Sosa Santos, classe 94, fatta di tanti alti e bassi, ma che appunto in questo inizio di stagione con mister Velasquez ha ritrovato le sue caratteristiche. Per quanto riguarda lo scorso anno c'è stata una discreta continuità, aveva giocato 31 partite, i primi gol in bianconero 2, segnati contro Fiorentina e Spal, ed ora il mercato è lontano e tanta è invece la voglia di consolidare il proprio futuro a Udine come testimoniato dal suo pensiero limpido, affidato su Instagram. Ancora un rinnovo, ringrazio la società per la fiducia, darò sempre il massimo per questa squadra, i colori, i tifosi e la città. Grazie Udine, queste le parole di Samir. Ci fermiamo un attimo per il consueto punto sulla viabilità in centro a Udine, allora diamo il buongiorno a Francesca Silvestri, vice ispettore della Polizia Locale, con Friuli Doc, i chioschi, le strade, come sta andando stamattina? Allora, la viabilità è fluida, il traffico sicuramente è un po' più intenso, però la viabilità è fluida, non si registrano problematiche particolari. Voglio sottolineare solo a proposito proprio di Friuli Doc che l'orario di carico-scarico stamattina sono fino alle 10 e che per i parcheggi in struttura venerdì e sabato i orari sono dalle 7 alle 10 e la domenica dalle 7 alle 24. Se si vuole lasciare gratuitamente l'auto al parcheggio è possibile farla solo al parcheggio Stadio Friuli e arrivare poi con la linea 9 presso il centro di Udine. Per il resto non si registra nulla di particolare. Perfetto, veramente vediamo scorrere le immagini dai punti nevralgici del traffico cittadino. Ringraziamo Francesca Silvestri e la Polizia Locale che sarà sicuramente impegnata anche quest'oggi a gestire la circolazione molto intasata in queste giornate di Friuli Doc con molte strade off-limits. Torniamo sui quotidiani sportivi per parlare di sport di Serie C in particolare ritornando al Pordenone che finalmente ha visto preparati i calendari della prossima stagione di Serie C e è pronta dunque a prepararsi al debutto che sarà contro il Fano alla Bottecchia martedì prossimo nella C con 7 promozioni sono 3 le superfavorite. L'Ovisa, il presidente dice Ternana, Vicenza e Feralpi sono le più forti del girone dietro ci siamo anche noi. Il Consiglio di Lega nel frattempo chiede di aumentare i salti di categoria per ripristinare una Serie B a 22 squadre. Finalmente si gioca dicevamo dunque con mister Tessere i ragazzi che non vedono l'ora di cominciare sulla carta all'inizio l'esordio al Bottecchia contro l'Alma Juve Fano appare leggero ma naturalmente non sarà da sottovalutare sul fronte formazione germinale cuore a metà deve battere il passato l'attaccante ha firmato due salvezze miracolo proprio con la maglia del Fano ed è stato uno degli acquisti più applauditi questa estate da parte del Pordenone. Si ritorna anche sulla questione della sfida perché c'era una doppia possibilità per le società dopo la presentazione dei calendari se si riusciva si poteva giocare già domenica o mercoledì o martedì i marchigiani volevano giocare già domenica questo appunto martedì sera invece in campo alle 20.30 al Bottecchia come concordato poi con i fanesi per il match d'esordio martedì si faranno 390 km per arrivare in Rival Noncello gli avversari una giornata di riposo e poi dovranno andare a misurarsi a Bolzano contro il Sud Tirol questi sono i primi problemi di stagione in base appunto al calendario che ha reso noto la Lega della terza serie a proposito di Pordenone andiamo anche a recuperare il punto sul Messaggero Veneto con la pagina dedicata proprio ai neroverdi eccola qua sfide alle colazzate della C sperando nella novità delle sette promozioni il presidente Gravina nel frattempo non molla la B deve tornare a 22 intanto Tesser per l'esordio recupera in attacco Candellone anche sul Messaggero si citano come rivali top Ternana appena scesa dalla B poi la Feral Pissarò che ha acquistato l'Aerone Caracciolo il Vicenza a frutto della fusione con il Bassano di Renzo Rosso ma anche i cugini della Triestina con Maracchi in mezzo al campo e soprattutto il Diablo Granocce in attacco e anche c'è il Monza il Monza attenzionato da Berlusconi e Galliani un Fano che pare in crescita il prossimo avversario occhio al bomber Ferrante l'ex Udinese Lazare invece la stella di questa formazione marchigiana per quanto riguarda le altre notizie di sport che troviamo sulla Messaggero si parla ancora dell'Alexandra Argiuculese che continua il suo grande momento il bronzo con il Team Italia e nella finale al nastro si ferma proprio sotto il podio l'argento è andato alla Baldassarre vedete qui la foto di gruppo con la 17enne in forza all'Asu Udine protagonista della nazionale di ginnastica ritmica per quanto riguarda invece i motori oggi il Messaggero dedica un profilo a un personaggio storico delle corse in Friuli ovvero Gianni Marchiolo una vita da bomber e da rallyista a 79 anni ha detto stop l'Udinese Cassele chiuderà la sua lunga carriera alla Cividale Castelmonte dove esordì nel 1966 mi mancherà ha detto ad Alberto Bertolotto il piacere della guida eccolo qua iniziai come portiere subendo oltre 10 gol poi divenne centravanti giocando in Serie C questo è il ricordo della sua carriera calcistica di Gianni Marchiol che poi tornò in Friuli e spuntò tutto sulle corse automobilistiche andiamo a parlare anche di basket con la parte di sport dedicata all'ApoGSA che continua la sua preparazione per quanto riguarda il prossimo campionato di A2 serbatoio nel motore quasi pieno un Simpson che salta come un grillo il preparatore atletico Braida fa il punto sul lavoro precampionato in casa GSA siamo all'apice del lavoro gambe imballate domani a Pistoia con Bamberg queste le prossime amichevoli l'obiettivo è partire forte il prof apprezza il lavoro dei suoi durante le vacanze la due donne con il basket femminile anche Ponzano cede alla Dels alla Delser Sturma a Docet il rugby invece oggi si presenta all'Union una squadra rinnovata in un vero girone di ferro il rugby Udine Union FWG verso la prima gara di Serie A sotto la loggia del Lionello alle 17 la presentazione ufficiale della compagine regbistica e poi l'atletica leggera di corsa Lignano tra verde e lungomare ecco la maratonina domani la Sunset Run Half Marathon tanti chilometri sulle ciclabili e c'è attesa anche per la non competitiva sui 10 chilometri per quanto riguarda poi gli altri sport la mountain bike la carica dei 600 nella pinetta di Bibione per la Gran Fondo in circuito c'è anche l'aggiornamento sul calcio di lettanti regionali Manzanese Ronchi l'uno a uno resta in sospeso in panchina degli ospiti uno squalificato questo quanto emerso dal comunicato ufficiale della FIGC del Friuli Venezia Giulia ci sono anche poi tutti gli altri provvedimenti del giudice sportivo lasciamo le pagine di sport del messaggero andiamo sui quotidiani nazionali a partire dalla Gazzetta che in apertura sceglie Scaroni con noi torni grande Milan dice il presidente rosso nero ex amministratore dell'ENI in 3-5 anni vogliamo fatturare e vincere come le top d'Europa lo scudetto è bellissimo ma il mondo del calcio la Champions dice Scaroni poi gli altri spunti di sport dalla prima Icardi Scalpita Parma ed Europa Spalletti ci pensa l'effetto sosta Capello dice alle big può costare caro dalle nazionali al campionato verso la Coppa Palambapé firmerai ora per una finale tra Pesce e Juve sappiamo infatti la prossima settimana ritorna da grande attesa la Champions League con le prime gare delle quattro italiane in campo e poi il caso Plus Valenze Chievo la stangata ai mini un meno tre da scontare subito occhio invece alla partenza del campionato primavera nomi segreti gioielli del torneo al via di taglio basso qual è la via giusta per l'oro il presidente Cairo e Malagò aprono il dibattito il governo e la ricetta Giorgetti boom britannico stile italico due modelli olimpici a confronto andiamo all'interno della gazzetta per approfondire innanzitutto lo spazio dedicato all'udinese in vista della sfida col Torino l'udinese scopre musso Belotti ora ti fermo io il portiere argentino Francesco Veluzzi dichiara che è pronto a esordire domenica in Serie A ho studiato i movimenti del Gallo e di Zaza sono da temere e poi ancora l'Inter ha fatto un gran colpo in prospettiva è la migliore questa è l'opinione del portiere argentino sulle altre formazioni di Serie A c'è anche l'identikit del ragazzo nato nel 94 a San Nicolà in Argentina alto 91 93 kg di peso per lui pronto a stupire tra i pali se gli verrà data l'opportunità in casa Granata invece Soriano studia da Amsic c'è la nuova formula Toro Mazzari varrà all'assetto con il doppio fantasista dentro anche Iago si ispira al suo vecchio Napoli a Roberto chiede movimenti alla Marek questo il quadro sulla squadra Granata e poi la scelta Berengher nuova occasione a sinistra potrebbe giocare anche lui nella formazione di Mazzari andiamo a vedere proprio in vista della quarta giornata di A le possibili formazioni che presenta la Gazzetta questa nel dettaglio la sfida tra Udinese e Torino Udinese col 4-1-4-1 Musso Larsen Kong Nointin e Samir Berami dietro al quartetto Possetto Fofanam Dragora e Depol davanti Lasagna il Torino invece con Sirigu tra i pali poi Moretti in Colu e Itzo in difesa Berengher Meite Baselli e De Silvestre a centrocampo Soriano Iago Falche dietro a Belotti dicevamo anche che è pronto a partire il campionato di primavera e oggi la Gazzetta sempre attenta al calcio giovanile italiano dedica una doppia con tutte le formazioni Benedetta primavera al titolo parte la caccia all'Inter e Bevi Talente alla carica per fare il grande salto i nerazzurri sono ancora i favoriti nonostante il cambio tecnico ricordiamo che l'annatore vecchi è andato alla Venezia fa paura invece l'Atalanta zeppa di nazionali Toro e Roma tante qualità la parola fuori quota che specifica anche una delle caratteristiche di questo campionato entrato nel vocabolario all'inizio degli anni 90 per indicare che una squadra che parteceva a un torneo con limitazioni anagrafiche ciascuno dei quali gli atleti appunto può tenere un tot numero di giocatori i ragazzi del 2001 nello scorso maggio sono arrivati secondo all'Europeo Under 17 si parla dei vice campioni anche gli azzurini classe 2000 sono arrivati in finale nel torneo Under 19 andiamo a vedere anche il quadro sulla formazione bianconera di mister Sassarini eccola qua spazio al 4-2-3-1 nuovo allenatore con David Sassarini arrivato dall'Intella nuovo modulo il 4-2-3-1 per la primavera tra le squadre più giovani del campionato con i suoi 17,6 anni di età media la stella è Emanuele Gasparini portiere classe 2002 vedete la possibile formazione con Gasparini tra i pali poi Donadello Vasco Filippi a Kermacora Battistella Samotti Bocic Ovidzak Mbala e Petova vedremo dunque che futuro avrà questa formazione ci sono anche alcuni dettagli con le sfide che saranno trasmesse in parte da Sport Italia Udinese Empoli la differita domenica alle ore 7 diamo un'occhiata anche rapida alla serie B che riparte con l'anticipo di questa sera tra Venezia e Benevento e poi il quadro di questa giornata dicevamo appunto stasera Venezia Benevento poi Carpi Brescia Crotone Verona Lecce Venezia Palermo Perugia Pescara Foggia Spezia Cittadella sabato ci sarà poi alle 18 Cosenza Livorno domenica Padova Cremonese riposa Lascoli dalla Gazzetta ci spostiamo sul Corriere dello Sport continuando la carrellata con le prime pagine dei quotidiani sportivi Max Factor gioca sul celebre programma televisivo questa apertura del Corriere quanto incide Allegri sulle vittorie e perché il suo calcio non convince gli Juventini questa è la domanda che si fa tra gli allenatori centenari e quello con la media punti più alta 2,4 a partita davanti a Conte la sfida col Sassuolo precede l'inizio della Champions più ultimativa della sua carriera e poi ancora della salva allo spalato anche l'Aiduc nell'orbita Napoli Tara Avellino trema la B si riparte con Venezia Benevento la Formula 1 sulla rossa per vincere Leclerc in Ferrari si esalta subito di taglio alto invece Martello Italia mondiale di volley dopo il Giappone steso anche il Belgio 3-0 a Firenze Zaitsev Lanza Giannelli e Anzani su tutti nazionale super al secondo set domani c'è l'Argentina di Velasco dalla Corriere dello Sport ci trasferiamo sul tutto sport con una pagina una prima pagina divisa a metà Di Bala fai come Ronaldo parla Andrea Pirlo in esclusiva l'altra metà invece c'è Iago Falche che dice fiero del mio toro e poi ancora gli spunti che ritroverete sulle pagine interne sulle tracce di Manzuc chi ha l'improvviso 17 gol così arriva la svolta la filosofia del giovanilismo Marotta la FIGC e il Rettilario il Chievo riparte da meno 3 ma andrà in appello per le plusvalenze fittizie viaggio nell'Interclub a Vercelli Torino e Casale sulla Formula 1 Leclerc si presenta Voglio il Mondiale mentre i mondiali di volley vedono appunto l'Italia a continuare il ciclo di vittorie 3-0 al Belgio Zaitsev e Juan Torena e il Belgio affonda di taglio alto invece sul Corriere sul Tutto Sport i grandi ritratti di Feltri Andrea Agnelli tutto suo padre ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa sportiva prima di salutarci però vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata alle 13.30 ritorna il TG di pranzo di Udinews con tutti gli aggiornamenti e poi alle 19 c'è lo spazio del TG serale in prima serata invece alle 21 lo vedete dalla box i grandi campionati dell'Udinese la trasmissione a cura di Guido Gomirato seconda puntata dedicata alla stagione 1956-57 tutta da vedere all'ora 21 su Dnews TV è davvero tutto per quanto ci riguarda grazie per l'attenzione buon proseguimento di giornata grazie per l'attenzione